Durante i primi anni della sua vita, con la famiglia, si sposta per il mondo vivendo ad Adelaide, Australia, Livorno e San Francisco, USA, fino a che, a cavallo tra gli anni 70 ed 80, si ferma definitivamente a Reggio Emilia. Nel corso della sua carriera ha sperimentato la musica in ogni suo aspetto. Nasce artisticamente come cantante e chitarrista autodidatta suonando nei locali di Reggio Emilia. Appena sedicenne, crescendo perfeziona le sue doti sperimentandosi nelle cover dei padri del funk, soul e rock mondiali. Nel 1989 conosce Jenny B, con la quale forma un primo gruppo musicale. La sua carriera raggiunge un primo grande successo nel 1993, quando diventa la voce dei ladri di biciclette nei tour dell'album 3. Dal 1992 al 2009 entra nella piazza mondiale raggiungendo la vetta delle vendite nel mercato giapponese sperimentando il genere Eurobeat e incidendo per la Time Records e la Ave Extra Axe più di 100 singoli. Nel 1998 prende parte al musical di Daniele Sala Music Box Lice Show. Nel 2000 partecipa al Mediolanum Tour Electric Show, sempre di Daniele Sala, come protagonista insieme ad Eder Parisi e alla trasmissione Strano ma Vero, con Gene Gnocchi e Cristina Parodi. La passione per il teatro lo porta nel 2004 ad interpretare il personaggio di Quasimodo nel, secondo cast ufficiale del musical Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante. Torna al mondo prettamente musicale nel 2009, cantando con i nomadi per il disco e il tour allo specchio. Nell'ambito della seconda edizione del Festival Internazionale della Caramella Buona viene, insignito del premio Voci Buone per la lotta alla pedofilia. Sempre nel 2009 collabora con Mario Biondi nell'album IF, premiato con tre dischi di platino. Nell'album è contenuto il singolo Love Dreamer di cui Giordano Gamboji è l'autore e il compositore. E il brano Everlasting Armoni di cui è il compositore. La collaborazione con Biondi si ripete nel 2011 con l'album 2 il tour nazionale in cui viene presentato il duetto Canoro Biondi-Gamboji dal titolo Dreaming di cui Gamboji è anche l'autore e Il compositore, nel 2012 interpreta la voce tenorile nel disco di Vasco Rossi L'altra metà del cielo.